Con questa presentazione verrà illustrata la procedura per una corretta candidatura per l'azione chiave 2, partenariati strategici per la cooperazione e per lo scambio di buone pratiche nel settore scuola, schools only, indicato come KA219. Prima di procedere alla compilazione del modulo, è molto importante leggere e consultare la guida al programma e l'invito a presentare proposte pubblicate ogni anno dalla Commissione Europea e nei quali sono indicate le caratteristiche dell'azione, i criteri di valutazione ed ogni altra informazione relativa al nuovo programma Erasmus+. Tutti questi documenti e i moduli per la candidatura dell'azione chiave 2 sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale, erasmusplus.it, sezione Partecipa. Prima di tutto il modulo deve essere scaricato e salvato sul proprio PC. Il modulo consente di compilare e inviare in via elettronica la candidatura per l'azione chiave 2. Questo modulo elettronico è un documento PDF che può essere compilato utilizzando la versione più recente di Adobe, programma disponibile al seguente indirizzo, adobe.com. Una volta aperto il modulo è possibile iniziare la compilazione. Prima di iniziare a compilare i campi è necessario impostare la protezione del documento. Cliccare su Preferenze. Nel menu a sinistra selezionare Gestore affidabilità e poi Modifica impostazioni. Cliccare su Consenti ai file PDF di accedere a tutti i siti web. Cliccare su OK e di nuovo su OK. In questo modo la compilazione delle form non avrà problemi. Durante la compilazione è necessario che il computer sia connesso ad Internet. La compilazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento e ripresa successivamente, avendo in precedenza salvato i dati. L'e-form è composto da vari campi di diversi colori. Grigio. Campi precompilati nei quali non è possibile sovrascrivere o aggiungere informazioni. Rosa. Campi obbligatori che devono essere assolutamente compilati per il buon esito dell'invio online della candidatura. Giallo. Campi facoltativi. B. Context. Per progetti del settore scuola che coinvolgono solo scuole, l'istituto coordinatore del partenariato deve compilare questo modulo e-form Strategic Partnerships for Schools Only. Si deve selezionare la lingua di compilazione del modulo indicandola nel campo corrispondente e che potrà essere la lingua di comunicazione del partenariato. Nella sezione B1 Project Identification è necessario indicare il titolo scelto per il progetto e l'eventuale acronimo. La data di inizio del progetto può essere compresa fra il 1 settembre e il 31 dicembre 2016. In Project Total Duration selezionare la durata del progetto in mesi, da un minimo di 12 fino ad un massimo di 36. Il modulo calcolerà automaticamente la data di fine del progetto. Nel campo B2 National Agency dovrà poi essere indicata l'agenzia nazionale cui si invia la candidatura. Per le scuole italiane e le scuole italiane all'estero la scelta corretta è il T02 Italia. Nella sezione C Priorities, per i partenariati fra sole scuole, scegliere come The Most Relevant Sectoral Priority almeno una delle priorità del settore dell'istruzione o almeno una priorità orizzontale, giustificandone la scelta. La rilevanza delle candidature proposte rispetto alle priorità settoriali sarà oggetto di valutazione e avrà un peso determinante nell'attribuzione del punteggio finale. La sezione D1, Applicant Organization, è relativa ai dati dell'istituto coordinatore. Inserendo il codice PIC ottenuto in fase di registrazione al portale dei partecipanti URF, i campi grigi di questa sezione si compileranno automaticamente. Le eventuali modifiche dovranno essere apportate nel portale dei partecipanti. Una volta effettuate e salvate le modifiche nell'URF, cliccando nuovamente su Check PIC, i campi dell'organizzazione si aggiorneranno istantaneamente. Si raccomanda di inserire la mail corretta dell'istituto. Occorre poi selezionare il tipo di organizzazione. È poi necessario descrivere le esperienze pregresse dell'ente e se abbia o meno avuto dei finanziamenti europei negli ultimi tre anni. In caso affermativo, è necessario indicare gli estremi del finanziamento. Le sezioni successive devono riportare i dati del rappresentante legale e della persona di contatto dell'istituto che coordina il partenariato. Si prega di verificare la correttezza della mail inserita, perché sarà utile per l'accesso ad ulteriori strumenti nel corso della gestione del progetto. Le sezioni D2, Partner Organization, sono relative ai dati del partner. Per la compilazione valgono le stesse indicazioni che abbiamo appena fornito per l'istituto coordinatore. Per inserire altri partner, cliccare sul tasto Add Partner, inserire il PIC del nuovo partner e compilare come indicato precedentemente. Le sezioni seguenti E, F, G presentano campi di testo libero da compilare con la dovuta attenzione e che riguardano i vari aspetti del progetto presentato. La descrizione del progetto, gli obiettivi, la transnazionalità del progetto, la descrizione dei partner e la distribuzione del lavoro, le modalità di comunicazione, i risultati attesi, il coinvolgimento delle persone ed in particolare quelle con minori opportunità, la preparazione e la gestione. Ognuna di queste sezioni deve essere compilata in maniera chiara, dettagliata ed esauriente, rispondendo alle varie domande e seguendo le indicazioni fornite dalle didascalie. Nella sezione G1, Learning Teaching Training Activities, indicare IES nel caso siano previste attività di mobilità per l'insegnamento, la formazione dello staff e degli alunni. In tal caso è necessario selezionare dall'Activity Type il tipo di mobilità e inserire una descrizione dettagliata compilando i vari campi. Il number of participants corrisponde alla somma di tutti i partecipanti appartenenti alle scuole che effettuano mobilità, includendo i partecipanti con special needs e gli accompagnatori. Per accompagnatori si intende staff a supporto degli alunni e o degli alunni docenti con special needs. Per quanto riguarda il numero dei giorni nella mobilità a breve termine, si ricorda che deve essere prevista una durata minima di almeno 5 giorni di attività, ai quali si possono aggiungere 2 giorni di viaggio. Con Participating Organizations si intendono sia le scuole di invio che l'istituto ospitante coinvolti in questa attività. Per aggiungere altre mobilità, usare il tasto Add Activity. La sezione H, Follow Up, presenta campi di testo libero da compilare con la dovuta attenzione e che riguardano i vari aspetti del progetto presentato. L'impatto, la disseminazione e la sostenibilità. Ognuna di queste sezioni deve essere compilata in maniera chiara, dettagliata ed esauriente, rispondendo alle varie domande e seguendo le indicazioni fornite dalle didascalie. La sezione I è dedicata all'inserimento del budget e risulterà in parte già compilata in automatico sulla base dei dati inseriti nelle sezioni precedenti del modulo. Si ricorda che tutte le voci del budget sono contributi forfettari calcolati su costi unitari, quindi sarà sufficiente inserire la base di costo. Fanno eccezione il supporto finanziario per la partecipazione di persone con bisogni speciali e i costi eccezionali per i quali deve essere invece inserito l'importo relativo alla spesa effettivamente prevista. Si può notare che la sezione I1, Project Management and Implementation, risulta già compilata sulla base dei dati del coordinatore e dei partner che sono stati inseriti nella sezione D. Nella sezione I2, Transnational Project Meetings, è possibile, cliccando sul più, inserire la richiesta di finanziamento di ogni partner il cui staff parteciperà all'incontro di progetto all'estero, indicando il numero degli incontri previsti, quello dei partecipanti e la distanza chilometrica. Per calcolare la Distance Band, occorre utilizzare il calcolatore di distanza che potete trovare sul sito dell'Agenzia Nazionale, erasmusplus.it. Occorre inserire la città di partenza e quella di destinazione e cliccare sul comando Calculate del Distance Calculator. Il sistema rilascerà la distanza in chilometri per una sola tratta e il risultato dei chilometri non dovrà essere raddoppiato. Nell'e-form, l'applicant dovrà quindi selezionare la fascia di distanza corrispondente al risultato in chilometri elaborato dal calcolatore, senza fare ulteriori calcoli. La sezione I3, Learning Teaching Training Activities, è relativa al budget necessario per le attività indicate nella sezione G1. Nella sezione I3.1, Travel, è possibile richiedere il finanziamento per il viaggio delle attività indicate nella sezione G1. Indicare per ogni attività prevista il numero dei partecipanti e la fascia chilometrica corrispondente alla distanza fra il luogo di partenza e quello di destinazione, in termini di sola andata, sempre utilizzando il calcolatore di distanza. Il totale per la categoria di spesa apparirà automaticamente. Nella sezione I3.2, Individual Support, è possibile richiedere il supporto finanziario per il soggiorno, destinato a coprire le spese per alloggio, vitto e trasporti locali. Occorre indicare la durata e il numero dei partecipanti alla mobilità, che deve corrispondere a quello inserito nella sezione G1. Solo per le attività di lungo termine, occorre indicare anche il paese di destinazione. Anche in questo caso, il totale per la categoria di spesa apparirà automaticamente. La sezione Linguistic Support appare solo nel caso in cui sia stata segnalata la mobilità a lungo termine nella sezione G1 e riguarda la possibilità di richiedere il contributo per la preparazione linguistica dei partecipanti alle mobilità. La sezione Exceptional Costs, Oversea Countries, deve essere compilata solamente nel caso in cui ci sia un partner di un paese d'oltremare che effettua una o più mobilità verso un altro paese partner. Il contributo è basato su costi reali, che devono essere debitamente giustificati e sarà rimborsato fino all'80% dei costi reggibili. La sezione I4 Special Needs può essere compilata solo nel caso in cui siano previsti costi aggiuntivi legati alla partecipazione di persone con bisogni speciali. Il contributo è basato su costi reali e quindi bisogna inserire l'importo relativo alla spesa effettivamente prevista. Nella sezione I5, Exceptional Costs, deve essere indicato il 75% dei costi straordinari previsti relativi al subappalto di beni e servizi che non possono essere forniti direttamente dalle organizzazioni partecipanti e devono essere debitamente giustificati. Il contributo è basato su costi reali, che devono essere debitamente giustificati sia nel campo giallo sottostante sia nelle sezioni descrittive del modulo. Sarà possibile finanziare fino ad un massimo di 50.000 euro. La sezione J, Project Summary, richiede di fornire un breve riassunto del progetto tenendo conto delle indicazioni riportate. Nella sezione J1, Summary of Participating Organizations, apparirà in automatico la lista dei partner del progetto. La sezione J2, Budget Summary, contiene campi riepilogativi dei fondi richiesti. Nella sezione J2.1, Project Total Grant, appare in automatico il totale della richiesta di finanziamento calcolato dal sistema. Siamo dunque arrivati alle ultime pagine del modulo di candidatura. La checklist della sezione K può servire a controllare di aver seguito le procedure corrette, evitando errori che potrebbero compromettere la validità della domanda. La sezione L, Data Protection Notice, riguarda la privacy e la gestione dei dati forniti nella candidatura. La sezione M è la Declaration of Honor del rappresentante legale dell'Istituto Coordinatore. Queste due pagine devono essere stampate, cliccando sul tasto corrispondente, compilate e firmate dallo stesso rappresentante legale. Quindi dovranno essere scansionate e salvate nel PC utilizzato per preparare la candidatura. La dichiarazione d'onore dovrà essere allegata a questa e-form semplicemente cliccando su Add nella sezione N Annexis, scegliendo il file corrispondente all'interno del proprio computer. Altro documento obbligatorio da allegare in questa sezione è il calendario delle attività, disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale, sezione Partecipa. I mandati con il quale ogni partner delega al coordinatore del progetto la gestione dell'intero budget non servono nel caso di partenariati tra sole e scuole, modulo Schools Only. Si ricorda che possono essere allegati al massimo 10 file, pertanto, nel caso bene siano di più, vi invitiamo ad unirli in un unico file fino ad un massimo di 5 MB. Si arriva infine all'ultima sezione, o Submission, dell'e-form. Terminata la compilazione del modulo, si deve premere il tasto Validate, in modo da controllare che le sezioni siano state compilate correttamente e che non manchi nessun dato obbligatorio. Nel caso in cui alcuni campi non siano stati compilati oppure siano stati compilati con valori non riconosciuti, ad esempio la mancanza della chiocciola all'indirizzo di posta elettronica, apparirà un messaggio di avvertimento che rimanderà alla sezione da controllare. Per effettuare l'invio online assicuratevi che il PC sia connesso ad internet e cliccate sul tasto Submit online per inviare il modulo in via elettronica. Se il processo di invio avviene senza errori, lo status dell'invio diventa Yes, affiancato da un codice numerico. Il giorno della scadenza, in caso di problemi con la procedura standard, l'e-form completo potrà essere inviato per mail entro due ore dalla scadenza assieme ad ogni file allegato in fase di compilazione e si dovrà inoltre inviare uno snapshot della sezione Submission che attesti l'errore dell'invio online. Questa mail deve essere inviata all'indirizzo partenariatiscuola-indire.it per le candidature fra sole e scuole, modulo Schools Only. Adesso non resta che stampare l'intero modulo in modo da conservarlo agli atti dell'organizzazione candidata. Si ricorda che la procedura di candidatura è esclusivamente in formato elettronico e non è richiesto l'invio cartaceo del modulo. Si raccomanda infine agli istituti coordinatori di inviare una copia del modulo definitivo ad ogni istituto partner coinvolto nel progetto.